Il procuratore federale della Federcalcio, Giuseppe Chini, ha aperto un procedimento sulle modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 in occasione di Perugia e Benevento. Gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie B, giocata venerdì 19 maggio e finita con il successo della formazione Umbra. L'ipotesi è quella di illecito sportivo. A riguardo Trapela è già stato acquisito il video della gara e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell'episodio. La partita del Curi era decisiva per le sorti del Perugia, che affrontava un Benevento già matematicamente retrocesso in Serie C. Per agguantare i play-out salvezza al Perugia serviva a battere il Benevento e sperare nella sconfitta del Brescia impegnata a Palermo contro la formazione in lotta per i play-off. La formazione Umbra è andata in svantaggio nel primo tempo, mentre il Palermo vinceva 2-0. Nella ripresa ribaltato il risultato, ma contemporaneamente a Palermo, il Brescia rimontava. Il doppio svantaggio è per venire al Parigio, 2-2. Un risultato che affossava le speranze del Perugia, che nel recupero subiva il gol del Pari di un Benevento rimasto in 10. Al 94esimo, complice un clamoroso errore dei Velve, Juan firmava il gol del definitivo 3-2. Un successo amaro e ora nel mirino della procura. Nel post-gara hanno fatto discutere anche le dichiarazioni del tecnico dei Saniti, Andrea Costinelli. La palla ora passa alla procura, che vuole vederci chiaro, nel frattempo la società sanita ha annunciato il nuovo direttore sportivo nelle scorse ore.